Oggi pirati puzzoni schifosi andremo a fare la caccia al tesoro dei vostri tesori che avete già nascosto E soprattutto il mio tesoro che qualcuno di voi me l'ha rubato Mannaggia a voi Allora carissimi puzzardini, puzzardine Dove avete messo il mio tesoro voi non lo sapete perché l'ho nascosto io per sbaglio perché mi sono confuso Però, però, qualcuno adesso mi potrà dare un tesoro Quindi forza questo sarà il mio tesoro, una spada E adesso voi lo nasconderete E poi ovviamente Ok perfetto, io ovviamente non dovrò guardare Però mi raccomando non nascondetelo troppo in là Tipo qua che cos'è che c'è un cacco No no saremo cattivi Forse vorrei che io ti denunci alla polizia Forse vuoi che chiami No Eh, allora però parla bene mi raccomando perché sennò poi dopo Hai ragione, hai ragione scusa 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 Ah ecco no perché sennò poi urlo male e poi dopo mi fa male la gola No no Eh, e poi non va bene Anche perché poi urlo volentieri Cioè tipo se adesso devo urlare Faccio No, le mie orecchie Eh, esatto Io ti ho alto Pensavo io ti odio No no, ti voglio molto bene invece Eh infatti Oh grazie anche io te ne voglio Non è vero, ti odio molto Ma scusa Eh, però Eh, cos'è che c'è qua? C'è una mappa del tesoro Davvero Ah c'è una mappa della Non è poco interessante Però io ho trovato delle pozioni che sarebbero tipo in realtà il grog Vabbè insomma Oh, noi abbiamo nascosto eh Bene allora Ditemi un po' da dove si trova questo tesoro? Da questa parte per caso? Eh sì, c'è anche visti quindi sì Ok bene quindi Eh da che parte? Da questa forse allora? Ah qui non te lo possiamo più dire Cioè No È troppo semplice Cioè Ok allora E perché ha laggato così tanto? Cosa è successo? Guarda che io mi spavento Eh se avete messo qualche strana cosa Perché non è normale che lagga Così devo cambiare computer? Ma devo cambiare computer? È impossibile no? Eh ragazzi cosa avete fatto? Anche io sto laggando Ah vedi Eh allora non è che Mi sa che è un po' la mappa Che è un po' pesantina Mannaggia qualcuno di un naso grosso schifoso Puzzone schifoso che non sei altro Eh sì Chi è che ha trovato questa mappa? Eh No io no È letteralmente impossibile Non vabbè Cioè nel senso sta laggando troppo Anche io sto laggando un casino Allora Eh ragazzi Questi sono problemi tecnici Non indifferenti Vi chiedo scusa per l'inconveniente E nel caso sia troppo è Cancelliamo il video E lo rifacciamo Perché non va bene Il video deve essere di qualitizia Qualitizia Ancora Non andate là Perché per carità Allora Facciamo così Andiamo c'è Dilemi dove è questa mappa Perché già mi sto incaspitando No 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 E qui vicino Ci sei passato davanti Tante volte No credo Forse una volta Eh beh certo Che sai parlare bene tu però eh Comunque mi sei bloccato di nuovo Un'altra volta Porta Puzzarda E quindi da questa Questa è Eh no no Lascia stare qua Lascia stare Eh infatti anche perché Ah qua Oh grazie mille Si sei passato a fianco Bene 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 Ci siamo spostati Perché qua era successo un casino Continuava la gara Che faceva schifo E da qualche parte qua in giro Nascosto le vostre cose bellissime Ok ok Eh dimmi un po' nonno Secondo te dove Parla più a voce alta Prima di tutto Perché prima parlavi a voce Basso Scusa scusa Adesso urlo Adesso urlo come una gallina Proprio Ecco bravo Che sta facendo Gabri Non fare Eh sta tragiardando lui Mamma mia Che figata No Ma cos'è Andiamo Eh vabbè Vabbè senti Scegliete dove andare Forza o creature del male Dove E qua sopra No non è qua sopra Anche perché non sapevo Che c'era questa cosa qua Molto mitica Eh Ok va bene Allora secondo me Secondo me No Cosa ho fatto Aiuto Aiuto Non mi parla quando io Mi sto zitto Devi parlare tu Scusa Infatti avevo iniziato a parlare Eh sì Dopo mezz'ora C'è un cartiere qua Eh Lascia per Mannaggia Io vi faccio fuori Dove dove Allora dove dovete andare C'è pistacchio qua Guardate Concentrati C'è pistacchio Non mi interessa di pistacchio Adesso lo ammazzo No Ti ha chiesto se vogliamo un drink E però pure in creativa peraltro Mannaggia Che monello no Allora forza Scegli una direzione Forza Eh da quella parte Da quella parte No Sbagliato Come no Da quella Da quella Esatto proprio così Eh andiamo però Forza Non c'è nulla da questa parte Eh perché sei sceso Perché sei deficiente Ah E poi Sono sceso ancora Ma io veramente Ma con che gentile Ok perfetto Ok siamo usciti Esatto Guarda l'aria fresca Qua che bella Ah che bella Si sente proprio la scorreggia di pesce Forza Andiamo La scorreggia di pesce Eh sì Devi parlare a voce bassa di nuovo Scusa 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 Adesso la smetto Adesso parlo bene Ma proprio benissimo Eh sarà a me Cioè sarà ora no Anche perché ormai Sono passati 20 minuti Dall'inizio del video Non lo so Forza Creature Forza Ok dobbiamo salire Dobbiamo salire quassù No 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 È molto più semplice Di quanto Tu possa credere Era proprio Proprio Eh Gabri Bravissimo Gabri Ha trovato Esatto Eccola Era davanti a me Gabri ha trovato Sei stato molto bravo Gabri Anche se non parli oggi Ti meriti un grog Un grog per te E io sono stato bravo No Perché mi hai fatto innervosire Tutto il tempo Dai No 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 sono caduto in acqua Aiuto Per favore ecco grazie Cioè proprio che deficienza Marina Proprio La deficienza È proprio Scusa La deficienza dei pirati È la vecchiaia È la vecchiaia Altro che E adesso Ultima volta Gabri Nascondi una cosa flash Tu Ok No in realtà Devo nascondere No nascondilo tu Dai Gabri Forza Nascondi una cosa flash Velocemente Così Noi non guardiamo Assolutamente Anzi io cercherò di fare Questo parkour Ragazzi vediamo se ce lo farò Oppure no Ce l'ho fatta Perché Ce l'hai fatta Ma certo Ma io Devi sapere che io da piccolo Non so se lo sapevi Ma da piccolo giocavo alle mappe parkour Perché ero Madocchio No Ero Come si dice Masochista Giusto Non è che sto dicendo una cosa brutta Perché No no Non c'entra nulla Ah davvero Ero No Vabbè No è giusto Giusto Non è giusto Ti dice così Sì 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 tranquillo Eh sono ignorante Scusa Ancora lì Ma bassa voce Lo sapevo io Non c'entra Io ti devo Ti devo denun No vabbè Devo chiamare Chi è che devo chiamare Ragazzi Datemi un consiglio Per qualcuno Per aggiustargli La lingua No il WF No Tu devi andare da un logopedista Che lui ti dice Come parlare Ok Perché non lo sai fare A quanto pare All'età di Ben Bipanni Perché non si può dire La tua età Però non lo sai fare 96 Sì esatto Perché sei troppo vecchio Ma proprio un vecchio Proprio di quelli là No dai no Che Ma altro che 96 Guarda Ti sei un po' ringiovanito Secondo me Può essere Scusa Nei video non No È ragione Scusa Scusami Scusami Mi chiedo Venia Chiedo perdono A tutti Scusate Minchino Poi nei video Devi anche ripetere Le stesse frasi O Eh infatti Sono un po' stupido Cioè C'è un vocabolario Abbastanza ristretto Poi nei video Devi anche Abbassare la voce Così tanto Adesso parlo Ancora più forza Di prima Ah no Ecco Perché È giusto L'ora Che tu impari Un attimo A parlare No Perché magari Dico Forse tu Non sai Come si sta Facendo Vabbè Gabri Tu dimmi un po' Quando sei pronto Perché io qua Sto viaggendo Sono di nuovo Da pistacchio Ciao pistacchio Come stai Eh Ah che bella Questa pressure plate D'oro Che be Gabri Dovrebbe essere Un turno flash Però Perché Hai già rotto Le pappole Te lo sto dicendo Cioè dove Dove stai nascondendo Sta roba Io sono già Dove l'hai nascosta Guarda Guarda me lo sento Già Chissà perché No non me lo sento E non dico nemmeno Perché sennò Poi dopo lui Prende Prende e fa cose Guarda intanto Ci possiamo bere Del grog Io e te Ok Oh mamma mia Il grog Ah che bello Finalmente possiamo Ah No Mi ha tipato Questo schifoso Come si è permesso Ad avere i poteri Così mannari Ok dove Rispondi Eh rispondi No 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 Calmi 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 Pace e amore Ma insomma Con questo qua Assolutamente no Forza Gabri Dimmi un po' Da questa parte Non può parlare Da questa parte Da questa No Mannaggia Da questa Chissà che è salito Lassopra Eh infatti Anche secondo me È salito qua sopra Chissà perché Avevo proprio Questo primo presentimento Cosa vuol dire Non sei buono Per favore Non no Poi parlavo Non sono buono a salire Mannaggia Oh Ce l'ho fatta No Sono caduto Ma io veramente Ma perché mi sto accompagnando Con questi qua Che non sanno Uno non parla proprio L'altro non sa parlare Invece Vabbè Quando mai Chiunque Non sa parlare Nei video Guarda Cioè una cosa Veramente Pazzesca Che poi c'è Domanda ragazzi Chi è che Cioè nel senso Tutti sanno fare video Ma chi è che Gli sa fare bene I video E qua l'ho detto Eh Vabbè Ehm No No Trasciamo Chiudi un occhio Per favore Chiudi un occhio Per stacco No scusa Mi è partito il dito Il dito Sai dovete Eh sì Vabbè Il dito Va bene Va bene No no Sì 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 Ok ok Continua tu Continua Spingo ti aiuto No Dopo Dopo però Non sai cosa Succede Guarda Non sai Su minecraft Su minecraft Ci tengo a precisare Questa cosa Su minecraft Ho trovato la redstone Grazie gabri per avermi Fatto questa redstone Non sei stato per niente Scontato Come Ti sei arrabbiato Mi spiace Insomma Come un minimo Si tratta Ma in lama No Sono morto Te lo meriti E comunque Niente Lasciate like Iscrivete al canale Ragazzi Perché Per darmi sostegno Contro queste persone Io vado E su licitarsi Non è mai la soluzione Migliore Ma su minecraft Si può fare Addio Ciao Ciao dio Ciao dio Ciao dio Ciaoτικa